Nel Cilento è previsto l'arrivo di 250 bambini e ragazzi con patologie oncoematologiche per una vacanza all'insegna del relax. Molte associazioni locali si stanno organizzando per accoglierli con doni realizzati. Personalmente tra le associazioni attive e ricche di iniziative vi è Progetto Cuore in collaborazione con le associazioni Silesia e APS Solidarte intenzionate a donare un manufatto in lana alle RSA, case famiglia, city angels, centri oncologici per bambini, reparti neonatologia, dormitori e comunità. Basta realizzare mattonelle da 8 giri si legge su Facebook che noi trasformeremo in coperte. Possono essere gialle o verdi a vostra scelta per una coperta 42 mattonelle lana acrilica grazie di cuore. L'iniziativa è legata alla vacanza del sorriso. Ogni anno infatti diverse località cilentane garantiscono dei giorni di relax e spensieratezza ai bambini con patologie oncoematologiche e alle loro famiglie. Sono tantissime le donne cilentane impegnate in queste settimane per realizzare copertine eseguite con ferri e uncinetto, sciarpe, cappelli, scialli, babbucce e guanti. Tutto ciò può essere consegnato alla referente di Agropoli, Nunzia Iermano, la quale scrive sostiene il progetto Cuore Agropoli. Se a casa hai della lana o cotone inutilizzata o ne vorresti acquistare solo un gomitolo, noi ne faremo lavori da donare. La solidarietà è un treno che non si ferma mai. Per donare la lana si può contattare uno dei seguenti numeri. Maria Grazia 338 19 41 501, Nunzia 320 08 600 23, Paola 342 62 52 816.